Nel cuore della stagione dedicata al cross country olimpico è tornato a Bisceglie il tradizionale appuntamento con la Neandertal Cup, ospitata nella zona antistante, le grotte di Santa Croce. La Kermesti Mountain Bike, giunta alla diciottesima edizione, si è svolta grazie all'organizzazione della polisportiva Gaetano Cavallaro. Tra gli esordienti di secondo anno è emerso Mirko Sasso. È stata una gara molto dura, c'erano abbastanza partecipanti e fin dalla partenza ho provato a staccarmi. Non è stato molto facile perché tutti mi hanno tenuto testa, ma dopo il tratto tecnico ho cercato di staccarli il più possibile perché mi riesco a muovere meglio rispetto sui tratti da spingere. Dopo quel tratto sono partito e ho cercato la vittoria. Una bellissima giornata innanzitutto di sole, una bellissima giornata di sport che è stata premiata dalla grande partecipazione degli atleti pugliesi e non solo. Abbiamo partecipazioni anche fuori regione che ci rendono felici del risultato raggiunto. Grazie.